Ciao a tutti, sono Alice, trainer presso Sport Club 12 di Ispra. Con l'arrivo della primavera è arrivato anche l'ora del nostro fantastico evento Run 12, che si terrà domenica 12 maggio. Si tratta di una corsa barra camminata non competitiva lungo le rive del lago di Comabbio. Per poterci preparare al meglio a questo fantastico evento abbiamo deciso di organizzare delle sedute di allenamento all'aperto per poter migliorare la tecnica di corsa, la capacità respiratoria ma soprattutto le capacità aerobiche e arrivare preparati a questo evento. Vi aspetto lunedì sera alle 18 e per maggiori informazioni chiedete al desk. Ciao! Grazie a tutti!